Ma Miscia, ma che fai? Oggi è il 24 dicembre, soffre di insonnia? Eh? Ah pocciolotta, non dovresti essere in letargo tu? Ma dimmi tu, ma vieni non fa freddo, ma la mattina si va anche sotto zero, niente, per la prima volta mi è capitato uno scoiattolo che soffre di insonnia e non fa letargo, ogni mattina lui esce fuori e si fa il suo giro, va a prendersi da mangiare e topetto, guarda lì che confusione, guarda sotto lì, eh? Sossone, c'è uno sossone, sei, eh? Maschietto proprio, eccolo là, è vuoto vero? Ah porca loca, che fregatura, per forza ti sei già preso tutto, mi tocca metterli ogni giorno per mangiare fresco, c'è il nido che esclode, guardate il tetto, no? Che è addirittura rialzato, è talmente pieno di scorto, guarda che florido, miscetta, va bene, allora buon Natale anche a te, sai, piccolino, buon Natale, ma vai anche a dormire, che dovresti essere un letargo tu, insonne, di un insonne che non sei altro, eh? No, dimmi tu, mi è capitato uno scoiattolo, uno scoiattolo insonne, eh? Porcelotto. Sous-titrage Société Radio-Canada